La città romana e i beni archeologici sono ostaggio di lavori infiniti e ritardi scandalosi. L'Associazione Culturale Teramo Nostra scrive alla sovrintendenza per chiedere spiegazioni. Gli scavi di Porta Madonna, lì, dovevano essere riconsegnati l'anno scorso, c'è un cartello con il direttore e la sovrintendente, tutti dalla sovrintendente, però nessuno ha dato a tutt'oggi spiegazioni perché che cosa è successo. Quindi parliamo della Chiesa di San Giuseppe, i soldi stanziati cinque anni fa, 210.000 euro per salvare la Chiesa che fa parte della storia della nostra città. Tanti lavori iniziati e mai finiti. Secondo lei il Comune ha anche la sua responsabilità? E se ce l'ha, qual è quella del Comune? Io non mi sento di attaccare il Comune perché dopo aver lottato 30 anni per il teatro romano, grazie a questa amministrazione, io parlo di tutto il Consiglio Comunale, è stato mandato avanti un progetto che adesso è esecutivo, io non lo so perché in Italia la burocrazia, che è una garanzia per l'amore di Dio, però non può portare tutti i lavori, qui si portano alle calente greche. Ripeto, la città deve essere fruibile in pieno, non solo, ed è anche antipatico vedere i giorni di Pasqua, i giorni di dopo Pasqua, tanti turisti che sono venuti, che girano a vuoto, la Chiesa di Santa Maria Assunta chiusa, il Mosaico del Leono chiuso, abbiamo il Museo Savino perché non si riapre, abbiamo tante, la città romana, noi siamo la città romana per eccellenza dell'Abruzzo, non viene valorizzata per niente. Grazie.